Avete la conferma della prenotazione per me, per stasera? Come diresti questo in inglese? È parecchio da ricordare. Quindi avete la conferma della prenotazione per me, per stasera? Avete, do you have, la conferma, the confirmation, della, of the, prenotazione, reservation, per me, for me, per stasera, for tonight? Do you have the confirmation of the reservation for me, for tonight? Per dire in inglese quale tipo, quale tipo, in inglese quale tipo si dice what? type, what type, quale tipo, what type? quindi quale tipo, quale tipo di prenotazione avete per me, come diresti questo, quale tipo di prenotazione avete per me, e provo a dire quale tipo di prenotazione volete, tipo di prenotazione volete, quindi quale tipo di prenotazione avete per me, what type, what type, what type, what type of reservation, abbiamo detto che prenotazione reservation do you have, avete, do you have, per me, per me, for me, quale tipo, what type of reservation do you have for me, e quale tipo di prenotazione volete, quindi what type of reservation do you want, what type of reservation do you want, what type of reservation do you want, come dici io voglio, io voglio, io voglio in inglese, come lo dici, invece voglio, si dice come, non voglio, e poi abbiamo volere, volere come si dice, e poi volete, come si dice volete, domanda, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, io voglio, dobbiamo sempre dire questo io, molto importante, anche se non c'è in italiano, tipo qua voglio, comunque devo dire I want in inglese, non voglio, I do not want, volere, to want, to want, e volete, do you want, domanda, do you want, quindi come diresti, quindi quale tipo di prenotazione volete, come diresti questo, quindi in italiano, quale tipo di prenotazione volete per stasera, what type of reservation do you want for tonight, what type of reservation do you want for tonight,